Crescere nel rispetto dei valori artigiani e ampliarsi senza perdere autenticità. Sono questi gli obiettivi di Forno Brisa, modello unico nel mondo della panificazione che lo scorso dicembre ha lanciato una campagna di equity crowdfunding. Il sogno è quello di dar vita a un mulino collettivo in Abruzzo, insieme ad alcune tra le migliori realtà del settore. Essere una public company significa rinunciare all'idea tradizionale dell'impresa dove c'è un padrone. Ovvero esistono dei soci fondatori ma tutti gli altri soci che entrano diventano proprietari e noi diventeremo a breve quasi mille. Quindi una vera e propria public company del pane. Partiamo dal concetto che per noi fare pane significa occuparci del nostro territorio attraverso la scelta dei grani, attraverso la tutela delle filiere, quindi delle persone che ne fanno parte e ci lavorano. Unirsi vuol dire farlo ancora di più. E la costruzione di un mulino, di un mulino tutti insieme, rappresenta proprio quell'azione, quell'operazione che da soli non avremmo mai potuto fare, ma insieme potenzia e amplifica il nostro potere di avere un impatto positivo sui nostri territori. Siamo già dei fornai che si coltivano il grano, produciamo pane e ora attraverso il mulino riusciamo a completare la filiera e occuparcene sempre di più. Io sono figlio e nipote di Fornai e per farvi capire mio padre mi sconsigliò di fare questo mestiere. Erano gli anni 90, era un periodo più basso in cui il pane era svalutato. Io per un po' di anni ci ho creduto e poi non mi sono rassegnato e ho ripreso in mano un mestiere di famiglia, però con la volontà di portare valore in questo settore, perché il pane è il principale protagonista della città, senza pane le città non esisterebbero. Questo vale da 10.000 anni ma ad oggi è ancora quanto mai attuale. Cioè che città vorremmo per il futuro, come vogliamo vivere insieme, in quale maniera e quindi sono domande che ci facciamo tutti, noi fornai ma anche i consumatori e questa è la filiera agricola su cui noi andremo a lavorare e quindi portare valore sul pane per immaginare un mondo migliore. Ora il settore è maturo, siamo cresciuti noi come azienda ma anche tutto il gruppo di panificatori italiani che lavora su queste tematiche della filiera e abbiamo anche raccolto degli investitori che credono in questi progetti. Crescere realmente significa diventare grandi, completarsi e quindi per noi la crescita vuol dire mantenere l'identità, mantenere la nostra autenticità e impegnarsi insieme in obiettivi comuni. Dopo il raggiungimento di 3 milioni e mezzo di euro, il gruppo adesso punta 4 milioni per realizzare nuovi progetti, tra questi anche la digitalizzazione delle realtà artigiane e soprattutto un nuovo modello di impresa collettiva. La novità di questa seconda campagna di Equity Crowdfunding è che stanno entrando degli investitori professionali, cioè il nostro settore sta attirando la fiducia. Investire in una società come la nostra è sì un investimento finanziario ma è anche una piccola rivoluzione perché si decide esattamente dove vanno a finire i propri soldi e quindi anche l'implicazione ecologica e sociale che c'è nella scelta di un'impresa perché abbiamo una direzione molto chiara. I soci di questo Equity Crowdfunding sono fornai, agricoltori, mugnai e clienti, cioè tutta la comunità del pane che diventa proprietaria di una public company. Grazie.